Il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni, Divina Volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te, come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste e Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti cosa scrivi più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina a te mi affida, affinché guidi i miei passi nel Regno del Volore Divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farei da mamma e poi a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la Divina Volontà, così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa Volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pagli le tue mani, Gesù, Io mi abbandono a te. Apri le tue mani, Gesù, Io mi abbandono a te. Gesù, 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 Gesù Io amo solo te, tu in me, io in te, Gesù. Dal Libro di Cielo, volume 14, 20 luglio 1922. Trovandomi nel solito mio stato, il mio sempre amabile Gesù è venuto e mi ha inabissata tanto nel suo volere che anche a volerne uscire mi riusciva impossibile. Succedeva a me come ad una persona che volontariamente si è fatta sbalzare dal suo piccolo luogo in un luogo interminabile, la quale vedendo la lunghezza della via di cui non ne conosce neppure i confini, depone il pensiero di rintracciare il suo piccolo luogo, ma però è felice della sua sorte, onde mentre nuotavo nel mare immenso del volere divino, il mio dolce Gesù mi ha detto Figlia carissima del mio volere, voglio fare di te una ripetitrice della mia vita. Il vivere nel mio volere deve innestare nell'anima tutto ciò che la mia volontà fece e mi fece soffrire nella mia umanità. Non tollera nessuna dissomiglianza, vedi la mia volontà eterna impose alla mia umanità che accettasse tante morti per quante creature dovevano avere vita alla luce del giorno e la mia umanità accettò con amore queste morti, tanto che il volere eterno fece tanti segni nella mia umanità per quante morti dovevo subire. Ora vorresti tu che io segnassi la tua con tanti segni per quanti ne fu segnata la mia affinché quante morti subì io subisca tu? Io ho detto il Fiat e Gesù con una maestria e velocità insieme ha segnato la mia con tanti segni di morte per quanti ne teneva lui dicendomi sia attenta e forte nel soffrire queste morti, molto più che da queste morti uscirò la vita a tante altre creature. Ora mentre ciò diceva, con le sue stesse mani creatrici mi toccava e come mi toccava creava il dolore da farmi sentire pene mortali mi strappava il cuore, lo feriva in mille modi ora con frecce di fuoco, ora con frecce di giro da farmi intirizzire, ora me lo stringeva forte da restare immobile ma chi può dire tutto, lo può dire lui solo ciò che fa onde io mi sentivo schiacciata, annientata e quasi temevo che non avessi la forza e lui volendosi come riposare delle pene che mi aveva dato ha ripreso a dire Di che temi? Forse che il mio volere non tenga forza sufficiente per sostenerti nelle pene che voglio darti? Oppure che potessi uscire dai confini del mio volere? Questo non sarà mai Non vedi quanti mari immensi ha disteso il mio volere intorno a te in modo che tu stessa non trovi la via come uscirne? Tutte le verità, gli effetti, i valori, le conoscenze che ti ho manifestato sono stati i mari di cui sei restata circondata ed altri mari continuerò a distendere Coraggio figlia mia, tutto ciò è necessario alla santità del vivere nel mio volere generare somiglianza tra me e l'anima Ciò feci con la mia mamma, non tollerai neppure una piccola pena né nessun atto o bene che feci, che lei non ne prendesse parte Una era la volontà che ci animava e quindi quando io subivo le morti, le pene, operavo lei moriva, penava, operava insieme con me Nella sua anima mi doveva essere copia fedele in modo che specchiandomi in lei dovevo trovare un altro me stesso Ora ciò che feci con la mia mamma lo voglio fare con te Dopo lei metto te, voglio che sia adombrata la Santissima Trinità sulla Terra Io, la mia mamma e tu E questo è necessario Che per mezzo di una creatura il mio volere abbia vita operante sulla Terra E come può avere questa vita operante se non do ciò che il mio volere contiene E ciò che fece subire la mia umanità Il mio volere ebbe una vera vita operante in me E nella mia inseparabile mamma Ora voglio che l'abbia in te Una creatura mi assolutamente necessaria Così il mio volere ha stabilito Le altre saranno condizionate Quando io mi sentivo tutta confusa Comprendevo ciò che Gesù diceva E più mi sentivo annientare Disfare il mio povero essere Mi sentivo tanto indegna che pensavo tra me Che sbaglio che fa Gesù Ci sono tante anime buone che poteva leggere Ma mentre ciò pensavo in me Lui ha soggiunto Povera figlia La tua piccolezza vicino a me si sperde Ma così ho deciso Dalla razza umana dovevo prenderla Se non prendevo te prendevo un'altra creatura Ma poiché tu sei più piccola Ti ho cresciuto sulle mie ginocchia Ti ho nutrito il mio seno come una piccola bambina Sicché sento in te la mia stessa vita E perciò ho fissato su di te i miei sguardi Ti ho ammirata e rimirata E compiacendo mi ho chiamato il Padre Allo Spirito Santo a rimirarti Ed un anime consenso ti abbiamo eletta Perciò non ti resta altro che essermi fedele Ed abbracciare con amore la vita Le pene, gli effetti E tutto ciò che vuole il nostro volere Bene, questo splendido e profondo e intenso brano Ci porta dentro il mistero Diciamo così delle esigenze ultime Se vogliamo chiamarle così Della vita nella divina volontà E' chiaro, questo è uno di quei brani Si capisce bene Dove nella meditazione E anche nell'applicarlo Quindi nella nostra vita Dobbiamo evidentemente fare dei distinguo Quindi comprendere Come questa creatura La piccola Luisa Abbia avuto Diciamo così Delle Peculiarità del tutto singolari Ecco Nel suo Modo specifico Ecco E come dire Archetipico Se vogliamo Per certi aspetti Di vivere la vita Nella divina volontà Ecco Però Fermo restando Ecco Che nessuno si deve adesso spaventare Insomma Che viva tante morti Quante ne ha subite Gesù sulla terra Insomma No Quindi C'è il pericolo Che ascoltando queste parole Qualcuno si terrorizzi Dicendo Mamma mia Come facciamo A vivere tutte le morti Che ha vissuto Gesù sulla terra A parte che un tale pensiero Ecco Direbbero Alcuni passi della saga scrittura Non è ispirato A saggezza e prudenza Insomma Perché Quando il Signore Ci dà Un incarico Ci dà una chiamata Insomma Anche Molto forte Ci dà anche tutte le grazie Per metterla in pratica Ecco Ci sono Nella storia della Chiesa Schiere di martiri Che hanno veramente sofferto Se non leggi i martiri I martirologi I racconti Dei loro martiri Delle cose Che Io leggendole Dico Ma Come hanno fatto A resistere a tanti dolori Insomma Quindi è chiaro che Se non c'è un'azione straordinaria Della grazia Uno non ce la farebbe Ecco C'è un principio generale Nella vita interiore E questo dobbiamo ricordarlo sempre Che Dio Dà sempre la grazia Sufficiente Proporzionata E necessaria A I compiti Che un'anima ha A meno che La persona Non ponga ostacoli E quelle grazie Non le rifiuti Ma per quanto riguarda Dio Lui Ci dà Tutto quello Di cui abbiamo bisogno E tutto quello Che c'è necessario Noi dobbiamo metterci Soltanto alla nostra Buona volontà E basta Il resto ci pensa Tutto quanto Lui Non dobbiamo E anche lo spaventarsi Ecco Dinanzi facciamo Questa piccola premessa Insomma Perché ripeto Io non sono in grado Di dire Se a tutti quelli Che vogliono Vivere Di una volontà Dio chieda Gesù chieda Ecco Una unione così forte Da quello che si capisce Insomma nel testo Sembra essere Sembrerebbe essere Una peculiarità Propria di Luisa Ecco Però C'è una cosa E già questo è un punto Di meditazione Insomma in generale Che noi non dobbiamo Avere paura Delle chiamate Dell'Altissimo E di ciò Dinanzi a cui Ci mette Di fronte Quindi Avere paura Ecco Dice Adesso si Faccio questa cosa Però Chissà che va a succedere No Oppure Sì Vorrei fare questa cosa Per il Signore Però se la faccio Poi Lui Tu gli hai indito Lui si prende un braccio Poi chi lo sa Che cosa mi chiederà Chi lo sa Che cosa andrà a succedere No Questi pensieri Lo capiamo subito Che Bisogna subito Lasciarli Lasciarli da parte Insomma No Perché Sono pensieri Che certamente Dispiacciono Perché non manifestano Certamente Quella fiducia Quell'abbandono Che noi dobbiamo avere Cioè Quello che il Signore Ci chiede E che può essere Certamente utile Sui disegni È anche Utile Alla nostra Alla nostra Crescita Insomma Alla nostra Alla nostra Gloria futura Alla nostra Santificazione Sulla Sulla terra E di questo Non dobbiamo Dubitarne Cioè Dio non ci mette Mai Mai In condizioni Come dire Di Stare male Al fine di stare male Questo Questo lo fa il diavolo Questo qui Il diavolo vuole fare soffrire Le persone Per il godimento Di vederle stare male Dio non è così Assolutamente Sappiamo che Dio Se avesse Tra virgolette Potuto La sofferenza Non ce l'avrebbe Neanche fatta conoscere Perché questi Erano i suoi Disegni Sull'umanità Adesso Ce la fa conoscere Ma non per il godimento Di farci soffrire Ecco Ma perché Alcune sofferenze Alcune proprio Alcune tribolazioni Sono necessarie Per noi E A seconda poi Del Compito Che noi abbiamo Nei suoi disegni Per noi E per i suoi Per l'adempimento Di questi suoi disegni Altrimenti Non esisterebbero Tante cose No? Ecco Quindi Noi viviamo adesso Qui in una condizione Differente Da quella che Dio Avrebbe voluto E che avrebbe pensato E questo dobbiamo Sempre ricordarlo I giorni scorsi In una catechesi Insomma Sulla Figura della Madonna Negli scritti Di Maria Valtorta C'erano dei passaggi No? Importanti Solo la Madonna Non ha mai deluso Le aspettative di Dio Noi le abbiamo deluse Che purtroppo In Adam e Eva Di cui si parla tanto In questi scritti Ci sono stati Dei problemi Cioè le cose Non sono andate Come Dio Avrebbe voluto Certamente Lui ha subordinato Alla libera volontà umana Da tante cose Ma la libera volontà umana Si è mossa malamente La storia sarebbe dovuta Essere un'altra cosa Io personalmente Credo Che nella infinita Intelligenza divina Che afferra e comprende Conosce non solo Ciò che è Ciò che è stato E ciò che sarà Ma anche ciò Che avrebbe potuto essere Che potrebbe essere Che potrà essere Che non sarà mai Io credo E a me sinceramente Non dispiacerebbe affatto Anche se forse È meglio vedere Queste cose Dall'altra parte Perché qui Forse moriremmo Di dolore Credo che Non è escluso Il fatto Che il nostro signore Quando si arriverà Dall'altra parte Ci faccia vedere Un bel film Ecco In 4K Dove si vede La storia Dell'umanità Come sarebbe stata Senza il peccato originale Come sarebbe stata Ecco Quindi questo Sono tutte queste piccole premesse Per dire Ecco Anche quando sentiamo Queste cose Vorresti tu Che io segnassi La tua umanità Con tanti segni Per quanti ne fu segnata La mia Affinché quante morti Subbi io Subisca tu Sappiamo che Gesù Te lo dice Nelle ore della passione Insomma Che moriva ogni secondo Quindi è una cosa allucinante Insomma Quello che la divina volontà Faceva vivere in lui A nostro beneficio Ecco Ed è importante vedere La reazione immediata Di Ibiza Cioè Il suo imbarazzo Attenzione Non deriva Dalla paura Di soffrire No Ma deriva Dal senso di indegnità Che dice In maniera infantile Gesù non si è neanche Non si era neanche presa Dice Tutti sbagli Gesù deve leggere una come a me Questo non si può dire A nostro Signore Perché il nostro Signore Non si sbaglia Nelle scelte che fa Certamente possiamo dire Signore mio Come disse San Pietro Allontanati da me Che sono un peccatore Ecco Ma non che Se è sbagliato Però Gesù certamente capisce Il modo Come dire Umile Gentile Grazioso Certamente Luisa non voleva andare a dire al Signore Che si sbaglia Era proprio in senso stretto Era semplicemente mossa Da quel senso di piccolezza Che poi è stata la causa Tra l'altro Della sua elezione Come Gesù spiega Quindi Luisa non si tira indietro Perché appena Gesù gli dice così Voglio fare di te Una ripetitrice della mia vita Perché il vivere nel mio volere Deve innestare Nell'anima tua Tutto ciò che la mia volontà Fece e mi fece soffrire Nella mia umanità E la mia volontà eterna Impose alla mia umanità Che accettasse tante morti Per quante creature Dovevano avere vita Alla luce del giorno Cioè Capito Cioè noi adesso sulla terra Ci sono 6-7 miliardi di persone Ma non è che sono noi che ci stanno Quindi 6-7 miliardi di persone Devono morire D'accordo E sono comunque Quindi vuol dire 7 miliardi di morti Si è vissuto Gesù Minimo D'accordo Considerando soltanto quelli Che adesso nel 2019 Sembra che siano Gli esseri umani Viventi sul pianeta Terra E tutti gli altri Che ci sono stati E quelli che ci saranno Quanti miliardi di morti Avrà vissuto Nostro Signore Gesù Cristo E attenzione Miliardi di morte Qui sarebbe da metterci con la calcolatrice Luce ha avuto 33 anni di vita Quindi 33 anni di vita Quanti giorni sono Quante ore sono Quanti minuti sono E quanti secondi sono Ecco bisogna vedere Se quei secondi di vita Se l'è cavata con una morte al secondo Adesso Mi si perdoni Insomma Però Questo è così Questo qui Quindi Era comunque veramente Molto molto impegnativo E E lui si ha detto il Fiat E lui si ha detto il Fiat Questa è la cosa sorprendente Ora Ripeto A noi probabilmente Gesù non ci chiederà Di vivere tutte quante Di morire tutte le morti Che lui ha vissuto Ci chiederà Quello Che la sua savienza Reputa buono Chiederci Solo che bisogna vedere Come noi Ci muoviamo Dinanzi alle sue richieste L'altra notte Per chi ha seguito Tra quelli che seguono Queste meditazioni La La veglia di preghiera Del sabato sera C'era un brano Veramente stupendo Tratto dal volume Trentesimo E Oltremodo Illuminante Dove però Gesù parlava Lui lo chiama Il sacrificio Prolisso Quindi Un grande Sacrificio E spiega Che la vita Nella divina volontà E questo Questo purtroppo Vale per tutti Mi dispiace Insomma su questo Forse tante morti Quante c'ha avuto Gesù Valeva solo per Luisa Ma questo vale per tutti Quando voglio dare un bene grande Dice Gesù in questo brano Che è del volume 30 Do croce nuove Voglio sacrificio nuovo E unico Croci nuove Sacrifici Non mai ricevuti Per poter trovare Pretesti Appoggio Forza Monete sufficienti Per farsi legare E catena lunghissima Per farsi legare Da una creatura Quando vogliamo dare Un bene grande Universale Nel mondo Il segno certo È chiedere Da una creatura Un grande sacrificio E la prolissità In esso Quindi non solo Un sacrificio grande Eh Ma un sacrificio Continuato nel tempo Ecco quindi Ecco Su questo Non bisogna avere paura Non bisogna avere paura Perché quando Gesù chiede È sempre per dare Cioè Dio non ci toglie nulla Non ci toglie Né la vita Né la gioia Né la felicità E Tanto per far capire È come se uno facesse Un investimento D'accordo Tu ti spogli Tutti quanti i tuoi beni Li metti in banca Perché? Non è che tu quei soldi Li butti O li perdi Ecco Con Dio facciamo così Gli investimenti Sono tutti a capitale garantito Perché tutto quello Che tu gli dai Stai tranquillo Che non lo perdi Ma ti ritorna Molto di più E anche i tassi Cioè Questo Gesù lo spiega Nel Vangelo Dice Chi ha lasciato Questo Questo Quell'altro Dice Verrà cento volte tanto In questa vita E nel secolo futuro La vita eterna Quindi Quando Dio chiede Non dobbiamo dare retta Alla Fischi del diavolo Dice Ah Dio è cattivo Dio ti toglie le cose Dio ti vuole fare soffrire Dio ti vuole togliere la gioia Dio ti vuole togliere i piaceri Dio ti vuole togliere i divertimenti Invece te li do io Lascialo perdere Vieni con me Questa Questa canzone Che adesso sto declinando Insomma In maniera molto molto Spiccia e grossolana E il diavolo L'assurda dentro l'orecchia Degli esseri umani Tutti i giorni Dalla mattina alla sera Deve fare in modo Che le nostre orecchie Siano chiuse però A queste A queste sciocchezze Dio non c'ha bisogno di nulla Dio non ha bisogno Di nessuno dei miei sacrifici Zero Né dei tuoi Di nessuna croce Che ho Di zero D'accordo Quindi quello che Quello che chiede Quello che vuole E a volte Dice Con le stesse mani greci Mi troccava Mi strappava il cuore Lo feriva in mille modi Con frecce di fuoco Con frecce di giro Me lo stringeva Chi può dire tutto Quindi Nostro signore Insomma Se ne può Inventare anche Di abbastanza interessanti Insomma Per quanto riguarda le croci Ma questo è sempre Finalizzato Al nostro bene Ecco E il momento in cui Luisa un pochino tituba Si sente un po' schiacciata Gesù subito Interviense Di che temi? Forse che Il mio volere Non tiene forze sufficiente Per sostenerti Nelle pene che voglio darti Ma Vogliamo scherzare I martiri Sono la testimonianza Vivente Come accennavo prima Ma ce ne stanno Milioni di martiri Ma guardate Alcuni veramente Se uno legge Il martirologio del 62 Si trova online Lo scarichi E lo legge quotidianamente Ma delle volte Ci stanno Dei racconti Che Io insomma Mi viene da dire A chi piacciono I film degli orrori Trovasse un buono Sceneggiatore Niedia un pochino Di quelle cose lì E cominciassero a fare I film che sono film Purtroppo Dell'orrore Sulla vita dei martiri Certo Sono film Dell'orrore Il cui Come dire Sottofondo È Meraviglioso D'accordo Perché Sono canti di gloria Per questi grandi Fratelli e sorelle Che hanno dato La vita per il Signore Ma Quello che gli hanno fatto Ad alcuni Ma soltanto A leggerlo Uno Come dire Si terrorizza Si dice Ma questo come ha fatto Questa come ha fatto Strappate le unghie Strappate gli occhi Tagliate le mammelle Alle bambine Strappate quelle cose Scarnificate i fianchi A uno l'altro giorno L'avevano scorticato vivo Che gli si vedevano le viscere Insomma Cioè Delle cose allucinanti Proprio E chi gli era data La forza a questi È certo che gli era data Nostro Signore Ma come fa Un essere umano Come dire Poi In forza della fede D'accordo Quindi a soffrire Cioè In vista di una cosa Che tu ci credi Ma Che capito In paradiso Non c'è stato mai nessuno Insomma Prima del tempo A raccontare com'è Qualche santo Insomma Ci capiamo Insomma Il senso di quello Che sto dicendo No Il martirio è sostenuto Per la fede E con la fede Ecco Quindi Dio non mancherà mai E Che cosa spiega Gesù Attenzione Per lui Se in particolare Bisogna cogliere Alcune passaggi Dice Coraggio Figlia mia Tutto ciò È necessario Alla santità Del vivere Nel mio volere Attenzione Generare Somiglianza Fra me E l'anima Ciò Perfetta Perfetta La prima Ripetitrice Perfetta Per usare Il termine Di Gesù Di quella Che è stata La sua vita Ora Fino a che grado Insomma Nostro Signore Ci stingerà Alla condivisione Della Della sua vita Passo Passo E questo Io non so Mica dirlo Non lo so Non lo so Né per me Né per le persone comuni Cioè Questo lo sa Gesù Certamente Questo dipende Anche Da quanto il nostro Fiat Si è incondizionato E tante volte Io ho detto Qualcuno Mi è arrivata Qualche mail Che si spaventa Ma ancora Torniamo Di che temi D'accordo Di che cosa C'hai paura Cioè Nel senso Che A livello Di offerta A livello Di disposizione In quel brano Del trentesimo Volume Che abbiamo detto Sabato scorso Gesù racconta Il sacrificio Di Disacco Da parte Di Abramo Gli ho chiesto Una cosa Che non ho chiesto Mai E che non avrei Richiesto Mai più a nessuno Cioè Damazzammi il figlio E ci è spiegato Anche perché Avendo fatto Questa cosa Lui Ha comprato Tra virgolette Da Dio La venuta del Messia Sulla terra Del Redentore E infatti La promessa Del Redentore È stata fatta Ad Abramo Quindi Quel sacrificio Era necessario Alla discesa Del verbo Sulla terra Per compiere L'opera Della redenzione E Abramo L'ha fatto Quindi Che cosa Vorrà il signore Da me Io questo Non lo posso sapere In anticipo Posso però In anticipo Dirgli Può darsi che Tu non voglia Quasi nulla Da me Può darsi che Io sono talmente Debole Talmente povero Che tu mi vedi Signore Che non sono in grado Manco di Sostenere Cinque chili È pensato per te Per te Che può essere molto grande Può essere molto piccolo Questo non ha nessunissima importanza L'importante è che il nostro Fiat Sia un Fiat Detto Realmente Col cuore Questo Dio lo vede Perché noi Perché noi non possiamo Lamentarsi D'accordo Ecco Dobbiamo invece ricordare E quando arrivano Poi i momenti Dove il Signore Se lo prende Qualche cosa Di quello che gli abbiamo dato Dire Eccomi qua Signore Benissimo Te lo avevo offerto Ora dammi la grazia Di compiere bene Dignitosamente Insomma Questa offerta Lieto del fatto Che tu Ecco Mi onori Di tutto questo E certo Che tutto questo È sempre per il mio bene Quindi Questa Anche Io tante volte Insomma Cerco di Di dirlo a me Anzitutto E poi di dirlo a tutti Questa è la vita soda Solida Nella Divina Volontà Quindi Non limitata Soltanto a A forme Pratiche Proprio importantissimi Prehiere Eccetera Ma è questa adesione Sostanziale Che ci porta A conformare Sempre più perfettamente La nostra vita A Cristo Perché in questo Consisterà la santità In questo Sempre consistito In questo Sempre consisterà Ecco Ripetitori E ripetitrici Della vita Di Gesù Tanto Qua Nella misura In cui Lui Che non ce lo dobbiamo Certamente Spiegare noi Sa Che possiamo Condividerla Fino al punto In cui Lui Sa Di poterci Far arrivare Eccetera 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 Bene Santissima Vergine Maria Come te Ripetitori E ripetitrici Della vita Di Gesù Questo Desideriamo Con tutto il cuore Questo Questo realmente Ti chiediamo Di aiutarci a vivere Senza avere Remore O paure O paure O paure Di nessun genere Possa La divina bontà Ecco Farci comprendere Davvero Il signor Il signor Non ci chiede Nulla In senso Stritto Ma tutto Vuole darci Nella misura In cui Apriamo però Incondizionatamente Il nostro cuore A lui E alla sua Santa Benedetta E sempre Salvifica Azione Nella divina volontaria Nome del padre Del figlio Dello spirito Santo Ti benedico Per aiutarti Ti benedico Per difenderti Ti benedico Per perdonarti Ti benedico Per liberarti Da ogni male Ti benedico Per consolarti Ti benedico Per farti santo Ti benedico Nella divina volontaria Nome del padre Del figlio Dello spirito Santo Amen Fiat Ave Maria